Lasciare il mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato. E' una delle frasi dell'ultimo messaggio di Baden-Paula, il fondatore dello scoutismo mondiale. Un messaggio che gli scout d'Europa, del gruppo Cerignola 2 San Michele, hanno preso alla lettera, come sempre accade, donando alla città ofantina un boschetto. Ieri, l'inaugurazione del progetto, nato alcuni mesi fa, dell'idea dei rover e le escolte, i ragazzi e le ragazze, dai 16 ai 21 anni, che hanno realizzato un boschetto nel quartiere Fornace, alla periferia di Cerignola. Uno spazio da tempo abbandonato e che in pochi mesi, grazie al lavoro, ai sacrifici e soprattutto anche al sudore di questi giovani scout, è diventato un'area verde. Così è sorto il boschetto Giewel, in onore del centenario il primo campo di formazione per capi scout inaugurato da Baden-Paula nel 1919. Ieri, alla presenza di numerosi residenti, l'inaugurazione del boschetto, composto da ben 380 alberi. Un dono che gli scout del Cerignola 2 hanno fatto al quartiere, alla città. Ma come hanno ribadito i responsabili del gruppo, Nico Marro e Maria Antonietta Merlicco, il progetto vuole essere anche un modo per sensibilizzare la popolazione, a partire dal quartiere, alla cura e alla protezione della natura, come opera e dono di Dio. Un dono indispensabile per la stessa vita dell'uomo.